Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video! Io sono XIUDER e ragazzi mamma mia! Da pochi minuti una modifica incredibile all'impianto a pressione del vulcano! Ci stiamo andando ragazzi per farvelo vedere ma vi consiglio assolutamente di atterrarci e di perderci qualche minuto! Guardate che roba! Modifica, assurda, incredibile e soprattutto criptata perché nessuno si aspettava una roba del genere! Ci mettiamo in un punto che dovrebbe essere abbastanza imboscato ragazzi! Guardate, sembra che c'è una piattaforma gigante che si dovrà aprire per far uscire qualche cosa! C'è una palletta completamente abbandonata che si può prendere e come vedete tutto quello che c'era prima ora non c'è più! Ragazzi io vi chiedo secondo voi che cosa c'è? Qua sotto dove sono io ma qua sotto nei commenti di scrivere che cos'è secondo voi! Fa sicuramente parte della storyline della season numero 9 ragazzi e come vedete è veramente assurdo! Ragazzi vi auguro di poterlo esplorare in tutta tranquillità! Vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video! Noi ci vediamo in live! Ciao! Ciao!